Una Milano-Sarremo a tutti gli effetti, quella che hai fatto oggi, ma parliamo della Notte dei Serpenti che probabilmente nel tuo immaginario si sdoppierà e poi del Sanremo. Beh sì, per fortuna che non l'ho fatta in bicicletta perché altrimenti sarei arrivato morto, però sì, Milano-Sarremo e Milano-Sarremo-Abruzzo perché sono le cose che ho nel cuore, cioè Sanremo mi sta dando modo di valorizzare la terra dove io sono nato e lo sto facendo con il cuore perché quando incontro gli operatori, i cantanti, i manager, gli artisti gli parlo sempre di questo progetto della Notte dei Serpenti e loro sono sempre incuriositi e ci vengono a trovare. Che avrà un seguito e probabilmente si sdoppierà? Se Dio vuole, se ci riesco sì, la voglio sdoppiare perché voglio raccontare l'Abruzzo sia dal punto di vista della montagna che dal punto di vista del mare. L'anno scorso l'abbiamo fatto a Pescara, se io riuscissi quest'anno anche a raccontare sia con i canti dei pescatori che con i canti dei pastori, questa terra meravigliosa che è l'unica che può vantare canti sia dei pastori che dei pescatori. Beh allora, l'alta montagna, la più alta montagna della penisola è in Abruzzo, non me ne hai dimenticato, il Gran Sasso d'Italia si chiama perché era il sasso più grande di tutta Italia e le Alpi sono confinanti, quindi non sono tutte italiane, sono metà italiane per metà di altri stati. L'unica montagna tutta italiana, la più alta di tutte sta proprio in Abruzzo, quindi la montagna andrebbe raccontata nel giusto modo. Un flash su Sanremo? Sanremo è l'ottavo anno per me, quindi sono ormai avvezzo, non c'è più quell'emozione dell'inizio, è come un po' tra le coppie, all'inizio c'è quell'amore così, poi piano piano l'amore si trasforma, diventa un amore più maturo, più intelligente, che serve proprio a sviluppare delle sinergie importanti. E quindi io sto dando molto a questo festival e spero di ricevere in cambio l'opportunità di poter portare nella mia terra gli artisti più interessanti, più disponibili, più gentili, più espressivi per raccontare l'Abruzzo dal punto di vista della musica pop. Canzoni popolari abruzzesi che non sono pare seconde a nessun'altra religione italiana, in quanto a quantità e a contenuti. No, anzi, noi come Abruzzo abbiamo il capitale di musica popolare più importante del mondo, c'è un pozzo di petrolio su cui siamo seduti inconsapevoli di questa risorsa che stiamo incominciando a comprendere piano piano. La concorrenza con altre regioni secondo me fa bene perché ci sta facendo capire dove si può arrivare con un miliardesimo della nostra potenzialità. Se noi riusciamo a mettere in campo tutte le forze, tutti uniti, in maniera trasversale, a livello generazionale, ma anche politico, di puntare su questo progetto, farlo diventare un progetto di tutti, cosa che già in realtà lo è, perché devo dire che è stato apprezzato da tutti quanti, noi nel giro di pochi anni tramite questo evento riusciremo a trasformare l'Abruzzo in una delle terre più attrattive d'Europa. Abbiamo bacchettato molto i giovani oggi, vero? Sì, io lo faccio sempre quando l'incontro, perché io vedo i giovani troppo spesso abbandonati a un nichilismo generazionale che non deve essere. Noi più grandi, soprattutto noi che abbiamo i mezzi, quindi personaggi dello spettacolo, artisti, ma anche i professori, gli insegnanti, gli allenatori, tutte le persone che hanno in qualche modo a che fare con i giovani quotidianamente si devono veramente battere per vederli entusiasti. Io quando vedo un gruppo di ragazzi spenti, annoiati, mi viene subito da attaccare, perché poi lo so che il risultato è immediatamente la reazione, la voglia di essere, di partecipare. Quindi quando loro sono così, la colpa non è loro, è nostra. Siamo noi responsabili dell'entusiasmo dei giovani. Se noi non creiamo strutture scolastiche, squadre di calcio, parrocchie, tutto quello che ha a che fare con i giovani, se noi non lo dobbiamo riempire di entusiasmo fino a costringerli a essere entusiasti, quell'entusiasmo cambierà l'Abruzzo.